Incominciamo da oggi una serie di incontri che sono i lunedì della politica. Questi incontri hanno un obiettivo importante, quello di riuscire a ritornare a fare degli incontri con discussione, argomento alla politica. Quella politica con la P maiuscola, quella politica bella, quella politica che ha come obiettivo quello di occuparsi delle persone. E lo facciamo su una traccia, un documento del 1943 di grandissima attualità ancora ad oggi. Perché quel documento dava le idee della ricostruzione di questo paese e questo paese su quali valori e su quali fondamenta poteva essere ricostruito. Oggi abbiamo ancora bisogno di un documento del genere che deve essere aggiornato, deve essere modificato, ma che può essere lo strumento per indicare una rotta, una guida in questa situazione che si sta delineando all'orizzonte, che è quella del post berlusconismo.